Abbiamo preso una bella botta che ci farà sicuramente bene perché ci farà riflettere su quello che abbiamo fatto. A mio avviso i primi dieci minuti dei due tempi hanno messo il risultato in questa maniera perché dopo due minuti del primo tempo abbiamo preso gol subito. Poi abbiamo avuto delle occasioni per pareggiare e abbiamo avuto 4-5 situazioni pericolose per poter pareggiare. Quando siamo rientrati in campo invece di avere pazienza e di arrivare vicino al novantesimo per rimediare la partita abbiamo regalato il secondo e il terzo gol in contropiede nei primi dieci minuti. A quel punto chiaramente la situazione è diventata anche pesante, chiusa dal quarto gol che è venuto da una situazione difficilmente rivedibile in futuro, mentre un giocatore scivola e calcia e mette la palla nell'incrosso dei pali. Però ripeto, abbiamo a mio avviso avuto questo inizio dei due tempi che ci hanno dato problemi. Quando una squadra vince si va a festeggiare e quando una squadra perde si va a chiedere scusa. Mi sembra abbastanza semplice come spiegazione, non ci vuole Einstein a capirlo. Molto semplice e l'allenatore a mio modo di vedere deve essere sempre davanti ai giocatori, soprattutto quando le cose non vanno bene. Se vincevano io non ci sarei andato, io non sono mai uno che cerca scusa. Ieri a conferenza stampa mi hanno chiesto se eravamo pronti, ho detto di sì. Sono partito il primo luglio, avevo chiesto di partire prima ma per le regole del gioco del calcio non si può partire prima del primo luglio. Ho provato determinate cose, sono arrivato a Torino e ho avuto dei giocatori che hanno avuto un virus. Sono stati male e la formazione l'ho dovuta mettere insieme per queste situazioni che sono capitate. Tant'è vero che Regini è entrato e dopo dieci minuti voleva svenire perché stava più male che bene. Ma io ripeto, queste non sono scuse. Perché comunque 11 giocatori vanno sempre in campo, 7 giocatori vanno sempre in panchina. E secondo me è anche giusto che nell'arco del tempo ci siano delle cose che vanno fatte a tempo debito. Quindi determinati giocatori arriveranno ma c'è un tempo per far sì che questi giocatori arriveranno. Non si può andare a fare delle operazioni e svenarsi per fare delle operazioni. In uscita il discorso è differente perché adesso se vogliamo parlare di Okaka, parliamo di Okaka, non è un problema, parliamo di chi è andato via. Ma poi il discorso bisogna anche vedere se chi è andato via poi magari giocava e poteva dare quello che tutti si potevano aspettare. E' un discorso un po' complicato e un po' troppo allargato a cose che sono gestione della società e sono gestione dell'allenatore e divulgarle diventa anche un po' problematico. E non voglio assolutamente, ti ripeto, trovare scuse nella maniera più assoluta. Non c'è nessuna scusa. Una squadra che perde 4-0 può solo analizzare il fatto di aver preso tre gol nei primi sette minuti, otto minuti, quelli che sono dei due tempi e già una squadra che prende due gol in questa maniera e sta bene fa fatica comunque. Poi mettiamoci che i tempi ristretti della preparazione hanno fatto sì che l'ossigeno finisse in maniera veloce. Quando si perde una partita così ti viene voglia di giocare subito con la dopo e quindi è questo che dobbiamo fare. Pensare a giocare la prossima partita, andare a Novi Sad a giocare la nostra partita e fare il massimo del risultato che possiamo ottenere. Chiaro che qualcuno può pensare che 4-0 è difficile, sarà difficile alla fine della partita ma devi rigiocare immediatamente per far sì che queste cose vengano rimosse il più velocemente possibile. Grazie 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 Grazie